Salve, realizzo questo tutorial per mostrare a tutti i colleghi come si svolgeranno le modalità di scrutinio con il registro nuvola. È semplicissimo e quindi credo che basti una semplice spiegazione per mostrarlo a tutti. La prima cosa da fare è accedere alla docente del registro, cosa che facciamo come docenti tutti i giorni e che io sto facendo anche io in questo momento. Io come vedete ho effettuato l'accesso con il permesso alla preside con l'account del nostro dirigente scolastico, questo per un motivo che vi spiegherò a breve. Ognuno però, ogni docente, effetterà l'accesso con il proprio account, la propria password. A questo punto, a partire da oggi e fino al giorno di scrutinio, quello che deve fare un docente è semplicemente andare qua, sull'area scrutinio, pagella. Si clicca, si attende, si clicca su inserimento dati e nuovamente qui su inserimento dati. A questo punto, vengono visualizzate le varie classi in cui un docente insegna. Uno seleziona una delle classi che insegna e clicca su procedi. Come vedete già impostato, scheda di valutazione, prima, quadrimestre. Si clicca su procedi e si attende. Si attende qualche seconda, a seconda della velocità della connessione con cui state lavorando. Come vedete, compaiono i nomi di studenti. In questo momento sono entrato nella classe prima della media e tutte le materie. Perché tutte le materie? Perché, come vi ho spiegato prima, io sono entrato con l'account della preside che è associata a tutte le materie. I docenti, entrando con l'account, naturalmente troveranno solo le materie che insegnano in quella classe. Quello che deve fare il docente, nei giorni precedenti, a partire da oggi, è semplicemente cliccare qui, nome per nome, e dare una proposta di valutazione. Come vedete, i voti vanno dal 3 al 10, più ci sono due ulteriori possibilità. Uno è non classificato, per gli studenti che purtroppo non hanno una valutazione, può succedere. E un esonero, la voce esonero, dovrà essere usata dagli insegnanti di religione per gli studenti che non si avvalgono l'insegnamento di religione cattolica e non hanno l'insegnamento di attività alternativa alla religione. Il docente, quindi, dà a casa a fare le sue proposte, materia per materia, classe per classe, dopodiché, una volta che ha finito di inserire le sue proposte di voto, clicca su salva e attendi. Ci vuole qualche secondo, anche qui dipende dalla velocità della connessione con cui state lavorando. Quello che deve fare il docente, prima del scutino, è semplicemente questo. Cosa avviene durante lo scutinio? Durante lo scutinio avviene che la preside, utilizzando il suo account, entra e visualizza tutte le materie, in quanto l'account della preside è collegato a tutte le materie. A quel punto, in sede di scutinio, si apre la discussione e il collegio, il consiglio di classe, scusate, può, secondo quanto è previsto dalla legge, modificare tutte le valutazioni. O alcune, o nessuna, naturalmente. Il voto del comportamento viene prima inserito dal docente coordinatore. E quindi, discusso, durante il collegio. Una volta che si sono fatte tutte le modifiche che il consiglio ha deciso che si debbano fare, la preside, o chi per lei, deve cliccare su salva e attendi. Ancora una volta, ci vorrà qualche secondo, a seconda velocità della connessione. Da quel momento in poi, i docenti non potranno più modificare i voti. Questo perché la segreteria, finito lo scrutinio, provvederà, prima possibile, a impedire loro nuovamente l'accesso nella scheda. Contemporaneamente, al giorno stabilito, verrà dato, invece, accesso alla scheda ormai modificabile, alle famiglie, le quali potranno visualizzare la scheda nel loro account famiglia. Alcune raccomandazioni riguardano, semplicemente, l'insegnamento della religione. Questo perché la nostra scuola superiore è previsto anche l'insegnamento dell'attività alternativa. Ora, la soluzione che è stata scelta quest'anno è stata quella di far sì che la voce sia unica, religione e attività alternative, sulla scheda. Quindi, il professore di religione dovrà inserire i voti per tutti coloro che si avvalgono nella religione. La professoressa che invece svolge al nostro superiore l'attività alternativa dovrà inserire la valutazione solo per quegli studenti che si avvalgono dell'attività alternativa. Sulla scheda verrà visualizzata religione o attività alternativa. Ricordo, ma questi docenti già lo sanno, che secondo quando è stato liberato dal collegio dei docenti la valutazione è per tutti unica, sia alle medie che alla scuola superiore, e che il voto di religione verrà, il voto che nel registro degli insegnanti è numerico, verrà trasformato in non sufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo, trasformazione che però dovrebbe essere automatica. Questo è quanto, non ho altro da dire, se c'è qualcosa che non è chiaro, contattatemi come sempre a scuola o scrivetemi una mail al mio indirizzo satavarn.gmail.com Un saluto a tutti e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!